Al salotto del Mix 2012 è venuto a trovarci Fabio Nicolai, che è direttore di Estracom. A lui chiediamo sostanzialmente cosa ne pensi della recente proposta di Paid Peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani. Buonasera a tutti. Io sono dell'idea che questa soluzione mi sembra un regresso rispetto all'evoluzione che è sul mondo internet. Cioè il mondo internet è qualcosa che deve essere libero e anche il peering deve essere qualcosa che deve comunque rimanere una costante, quindi non avere un canone o dei prezzi di accesso. Deve essere uno scambio fra gli operatori che mettono a disposizione la propria infrastruttura per fare lo scambio di contenuti. Lo vedo un freno a quello che può essere un'evoluzione, un'apertura del mondo internet.